12 marzo cantiere metro c via dei fagi questo è il famoso posto di ariazione lì si intravede una struttura in cimento armato che occupa gran parte della gareggiata nulla è dato sapere chissà se magari andremo a finire a una via dei fagi a senso unico la sofferenza di questo quartiere diciamo che inimmaginabile e irraccontabile box sequestrati nulla è dato a sapere né dei tempi di consegna le informazioni devono essere letteralmente rubate questo è un bunker qui ormai è diventato un parcheggio dove è pietato anche girare col mezzo pubblico il tram questa è la gru perennemente in moto via dei fagi cantiere metro c pozzo data sconosciuta di consegna